Buonasera, benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura. Buonasera, continuiamo gli eventi e le iniziative per la settimana della lingua italiana, dopo un paio di eventi dedicati alla letteratura e al teatro ci concentriamo questa sera sulla lingua vera e propria. Siamo molto onorati di avere con noi il presidente dell'Accademia della Crusca, professor Marazzini. Un applauso, grazie. L'idea di questo incontro è nata dall'amico professor Herman Aller del CUNY Graduate Center, Queen's College. Ti ringrazio per la costante collaborazione e per tutto quello che fa per la lingua italiana. E pregherei professor Aller di presentare lui stesso l'argomento di questa sera. Prego. Grazie. È un grande piacere e onore avere con noi questa sera il professor Claudio Marazzini, professore di storia della lingua italiana presso l'Università del Piemonte Orientale e presidente dell'Accademia della Crusca, la più prestigiosa istituzione della lingua italiana, l'Accademia fondata nel 583, modello di altre accademie europee come quella francese e quella spagnola. Con la sua storia plurisecolare, l'Accademia si trova al centro della codificazione linguistica, con il grande vocabolario monolingue del 612 e le successive edizioni. Oggi l'Accademia è molto attiva, impegnata nella ricerca linguistica, con la redazione di dizionari di tre riviste scientifiche, progetti scientifici molteplici e anche come guida per la scuola e guida per il pubblico attraverso la consulenza linguistica. Il professor Marazzini è uno dei massimi studiosi della storia della lingua italiana, tra le sue numerose pubblicazioni oltre 250 e mi fa piacere notare che abbiamo qui alla New York Public Library 29 dei suoi volumi, siamo andati a controllare. Dunque, si è occupato in questi studi, si è occupato della questione della lingua, dal 500 a 8, del rapporto tra lingua e dialetto, delle teorie linguistiche, della politica della lingua, della storia, della grammatica e della lessicografia e dell'educazione linguistica. Tutti questi temi vengono ripresi in una ricca serie di manuali della storia della lingua e pubblicati dal mulino, noti ai nostri studenti che seguono corsi di storia della lingua al Queen's College e al graduazione della CUNY. Il professor Marazzini si è formato a Torino studiando con Gianluigi Beccaria, un altro grande storico della lingua, e insegnando poi nelle università di Macerata, di Torino, Udine e dal 1997 come professore ordinario presso l'Università del Piemonte Orientale a Vercelli. Per due anni è stato professore nell'Università di Lausanna in Svizzera, è membro di molte società, tra cui la Società Italiana di Glottologia, e fa parte di redazioni e riviste prestigiose come Lingua e Stile. Per esempio, nel 2014 è stato eletto presidente dell'Accademia della Crusca, come successore di Nicoletta Maraschio e di Francesco Sabatini, due accademici, due presidenti della Crusca, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a New York. Tra le sue numerose pubblicazioni vorrei menzionare soltanto il volume L'Ordine delle parole, pubblicato dieci anni fa dal Mulino, un saccio sulla storia dei vocabolari italiani, da quelli medievali e rinascimentali a quelli moderni, dove si discutono diversi modelli culturali, la norma linguistica, i rapporti tra lingua e lessici tecnico-scientifici, il rapporto fra vocabolari e scrittori e scrittrici, quindi anche sulla questione dell'apertura nei confronti dei forestierismi. E nel suo volume più recente, dal titolo, e l'ho portato con me, dal titolo L'italiano è meraviglioso, come e perché dobbiamo salvare la nostra lingua, è un libro pubblicato recentemente da Rizzoli, e dunque il professor Marazzini riprende molti di questi temi, tra cui anche le tensioni tra l'inglese come lingua franca internazionale e il ruolo dell'italiano nella società contemporanea, che ha avuto modo di seguire egregiamente nella sua funzione come presidente della Crusca. Questo libro è una bella lettura, che raccomando, questo libro è anche al centro dell'incontro di stasera, dal titolo L'italiano è meraviglioso, che cosa fa l'Accademia della Crusca per la lingua. Benvenuto al professore. Grazie. Proviamo questi, poi se è il caso vado lì. Grazie all'amico Haller e anche accademico, perché Haller è accademico corrispondente straniero dell'Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca ha degli accademici ordinari, corrispondenti italiani e corrispondenti esteri, e quindi è articolata, quasi tutte le accademie europee sono articolate più o meno in questo modo. Sono onorato di quello che hai detto, ringrazio naturalmente l'Istituto di Cultura per avermi invitato, sono contento che la sala sia abbastanza numerosa, non tanto per la mia persona, ma per la lingua italiana, quindi vuol dire che c'è interesse attorno all'argomento che ci unisce e ci raccoglie qui, anche se nella settimana della lingua italiana si parla in italiano, questo rende un po' più difficile, no? la comunicazione. Per arrivare all'argomento che dà il titolo alla serata, io ho pensato di avvicinarmi gradualmente al tema che è cosa fa la Crusca per la lingua italiana, cercando di farvi venire la voglia di venire in Italia, venire a Firenze, venire a vedere l'Accademia della Crusca. Questo vale sicuramente per chi è americano, ma anche per tanti italiani, si sente bene? Perché anche molti italiani, persino alcuni fiorentini poi in realtà, non sanno dov'è l'Accademia della Crusca, anche se negli ultimi anni l'Accademia è riuscita a diventare più popolare e attirare più pubblico. Allora, ecco, questa è l'Accademia della Crusca, l'edificio dell'Accademia della Crusca, un edificio molto impegnativo perché, vedete la tipica architettura fiorentina del Cinquecento, il progetto è del Vasari, quindi è un grande dell'architettura rinascimentale italiana e la villa è stata costruita da Cosimo de' Medici, ampliata, perché il nucleo originale era più piccolo e quella parte, il nucleo originale era questo, in questa zona qua. Pensate che, ed era stata costruita quella parte nel Quattrocento da un Lorenzo de' Medici, ma non, era Lorenzo il Popolano, cioè quindi un cugino della famiglia Medici, ma collezionista, il Popolano era un soprannome, collezionista d'arte, il committente dei quadri di Botticelli della Primavera e della Nascita di Venere. Pensate che fino alla fine, a metà del Seicento, quei due quadri, che oggi sono tra quelli più celebri degli uffizi, erano conservati qui nell'Accademia della Crusca. Quindi abitò in quella parte della villa più antica, Cosimo de' Medici, quando era bambino, perché il padre, Giovanni delle Bande Nere, abitava lì per un breve periodo. E quindi Cosimo, poi diventato arciduca, fece ampliare la villa e l'alesse a residenza suburbana, perché la villa non è nel centro di Firenze, ma è agli estremi confini, diciamo poche centinaia di metri dopo, finisce il comune di Firenze e comincia Sesto Fiorentino, quindi è periferica. In una zona, alle spalle, forse lo vedremo in qualche fotografia, c'è una bellissima montagna che si chiama Monte Morello, che praticamente è intatta, invece nella parte davanti corrono, c'è l'aeroporto di Firenze, c'è la linea ad alta velocità, quindi la parte davanti è un po' guastata, la parte alle spalle è rimasta bellissima, antica. Qui siamo alle spalle della villa, quindi è il retro, e alle spalle della villa c'è un capolavoro architettonico che forse è ancora più importante della villa medesima, perché è il giardino della villa medicea di Castello. Perché è così importante questo giardino? Perché è il capostipite dei giardini all'italiana, cioè il primo giardino all'italiana, cioè il giardino geometrico costruito con le uguali e le piante basse, quindi il contrario del giardino all'inglese, in cui ci sono gli alberi e che simula la natura. Il giardino, che quindi è strettamente legato alla villa, perché è una villa suburbana che serviva per periodi di riposo, praticamente in campagna, la città di Firenze resta in fondo qui, lontana, lontana, qui, lontana, lontana, si vede il campanile di Giotto, il battistero, però a una certa distanza. Il giardino non dipende dall'Accademia della Crusca, non è affidato all'Accademia della Crusca, viene gestito dalla sovraintendenza ai monumenti direttamente, però naturalmente è legato in maniera stretta. Ecco qui, si caratterizza, vedete, in primo piano, vedete dei limoni, perché i medici amavano collezionare agrumi, piante rare, agrumi rarissimi, con le forme più strane, agrumi bitorzoluti, con dei colori incredibili. E alcuni di questi limoni, che ancora si vedono, e che vengono naturalmente portati in giardino durante l'estate, e ritirati nelle limonaie durante l'inverno, quindi per vederli bisogna venire nel periodo caldo. Alcuni di questi limoni sono discendenti dei limoni della famiglia medici, ancora. Quindi fanno parte di questa collezione rara. Poi una parte si sono perduti, poi vi spiego se interessa perché si sono perduti, e come mai alcuni invece, grazie a Dio, hanno potuto sopravvivere fino ai tempi moderni. Ecco qua, quindi nuovo vedete questo giardino, vedete i vasi di limoni che sono stati portati fuori, vedete la villa, eccola qua, questa è la villa, che è adibita ad Accademia della Crusca, cioè Accademia della Lingua Italiana, come prima si diceva. Ecco, questa è la sala delle conferenze in cui si svolgono le attività pubbliche più importanti dell'Accademia della Crusca, e vedete tra l'altro come le finestre si affacciano sullo splendido giardino, quindi c'è anche questo piacere, no? Di vedere il giardino alle spalle di chi parla, di chi sta qui a parlare. Questa è il cuore dell'Accademia, è la cosiddetta Sala delle Pale. Tutti i visitatori ci tengono a vedere soprattutto questa sala, perché? Allora, perché le pale, di cui parleremo tra un attimo, sono queste che vedete appese. Queste sono pale antiche, cominciano dalla fine del Cinquecento e poi vanno avanti fino al Seicento. e erano l'emblema di ogni accademico. Cioè l'Accademico della Crusca aveva come proprio emblema una pala, come quella con cui si prende la farina. Perché? Come mai si chiama Accademia della Crusca? Allora, si chiama Accademia della Crusca, dicendolo con una parola difficile, per una ragione antifrastica, cioè che è il contrario, nel senso che l'Accademia non vuole conservare la Crusca, perché la Crusca è lo scarto. Cioè, quando si faceva il pane, la Crusca serviva a fare il pane dei poveri, invece il pane dei ricchi si faceva col fior di farina, bianco, bianchissimo. Quindi, Crusca lo scarto, fior di farina, quello che si conserva. Il motto dell'Accademia è il più bel fior ne coglie della farina, ma anche, ecco qua, il doppio significato della lingua. Quindi la selezione per scartare la Crusca e tenere la farina. Quindi tutta la simbologia dell'Accademia gravita, l'Accademia è nata appunto alla fine del Cinquecento e poi nel Seicento, in un'epoca in cui c'era una speciale attenzione a queste simbologie. Allora, la pala non è altro che la pala con cui si può prendere la farina, però vedete che in realtà è una pala dipinta in cui ci sono delle cose che diremo tra un attimo quando ingrandiremo una pala vedremo che cosa c'è. Ma anche altri oggetti che sono qui presenti si rifanno alla simbologia della Crusca, della farina e del pane. Cioè, queste sedie, per esempio, vedete queste strane sedie, sono delle gerle rovesciate, la gerla è uno zaino di legno, diciamo, in cui si metteva il pane, cioè i venditori di pane riempivano questa gerla di pane, potrebbero riempirla anche di altre cose, naturalmente anche di paglia o di fieno, se ne vendevano il fieno, però in questo caso sono gerle da pane, rovesciate, che diventano come un sedile, e lo schienale è di nuovo una pala con il manico lungo, vedete? Qui non si vede nella fotografia, ma ci sono poi addirittura in Crusca degli armadi che sembrano dei sacchi di grano, sono a forma di sacchi di grano, adesso qui non ho la fotografia. Cosa tenevano degli armadi? Le schede del vocabolario, poi vedremo, dentro sacchi che sembrano essere di grano. Questa sala, vedete che al tavolo, al centro ha un tavolo, quindi ci sono tutte le pale appese, qui c'è un quadro che rappresenta San Zanobi che è il protettore dell'Accademia, e è una parte museale, certo, nel senso che i visitatori che vengono in Crusca vengono a vedere naturalmente questa sala, però è usata dagli accademici. Le riunioni del collegio accademico si svolgono attorno a questo tavolo, la votazione del presidente che è votato dagli accademici si svolge attorno a questo tavolo, quindi è usata, è funzionale, esattamente. Ecco, dicevamo le pale, le pale sono un oggetto molto divertente e vediamo se ce n'è qualcuna ancora più ingrandita, sì, ecco, vedete, così possiamo vedere come è fatta una pala, che cosa rappresenta, che cosa c'è in una pala. Allora, questa è una delle più antiche, di Bastiano De Rossi, questa invece è di Giovanni Carlo dei Medici, qui vedete le date, di Bastiano De Rossi, non ho scritto le date, ma era, è stato il primo segretario dell'Accademia al tempo del primo vocabolario che è uscito nel 1612, quindi proprio nel periodo iniziale di vita dell'Accademia della Crusca, che è nata nel 1583, come si diceva. Ecco, allora vedete come è fatta la pala di Bastiano De Rossi, qui c'è il nome dell'Accademico, perché come in tutte le Accademie l'Accademico prende un nome fittizio di fantasia, insomma, quindi lui si chiama Inferigno, Inferigno significa un pane duro, e infatti vedete che nel suo simbolo c'è una schiacciatina, una specie di pane non lievitato, un pane duro, che si mangia quando? Vedete, qui c'è il motto, c'è il motto dell'Accademia, quindi il nome dell'Accademico, l'emblema e il nome per cominciare, quindi questa schiacciatina si può mangiare inizio pasto, quindi uno si siede, mangia una schiacciatina, però in realtà c'è un secondo significato, cioè l'Inferigno è uno degli accademici che comincia il lavoro dell'Accademia per fare il vocabolario della lingua italiana, quindi vale per il pane e la farina per cominciare il pasto, ma anche per realizzare il primo vocabolario, hanno sempre un doppio senso questi emblemi. Qui ce ne sono altre due, questa è pittoricamente molto bella, adesso qui non si vede perché il colore sbiardisce un poco. Nella proiezione della diapositiva, però, è un membro della famiglia Medici, Giovanni Carlo De Medici, quindi aveva a disposizione probabilmente un pittore di qualità. E che cosa ha fatto? vedete che c'è un galeone che parte, il nome dell'accademico è provveduto, tenterò l'oceano e potrò farlo, tenterò l'oceano e potrò farlo. Perché lo può fare? Dov'è il pane? Perché ci deve essere sempre il pane e la farina dentro l'emblema degli accademici. Vedete qui dei sacchi con delle gallette, le gallette che si consumeranno durante la navigazione nell'oceano, quindi potrò tentare l'oceano perché ho il pane e il pane mi permette di superare questo grande mare di navigare. Questa è molto bella, l'accademico è un nome spagnolo ma era uno spagnolo che abitava a Firenze e non ha fatto nulla di speciale, non è un accademico famoso ma si è fatto dipingere una pala molto bella perché anche qui i colori la falsano però è quasi metafisica, vedete che c'è una ricottina, un formaggio fresco dentro un piatto con dentro una cosa che è come una galletta, un biscotto di pane duro infilato nel formaggio. Ebbene, si chiama mantenuto, l'accademico e dice per me non basto, cioè il formaggio da solo, la ricottina, sarebbe andata male, sarebbe diventata acida se mettendo il pane secco dentro non si fosse asciugata, quindi metto il pane, asciuga il formaggio che quindi può stagionare e quindi in pratica si mantiene grazie alla sinergia si direbbe oggi tra il formaggio e la galletta. Quindi vedete la sala delle pale che è presente, vedete quante sono, ognuna di queste è un indovinello, diciamo che si può trascorrere un'intera giornata a indovinare le pale, sono anche naturalmente descritte in un libro, quindi si possono consultare, sono pubblicate naturalmente, studiate, pubblicate. Esistono anche l'uso delle pale accademiche si è poi perduto nel corso del tempo, quindi gli accademici dell'Ottocento, della prima metà del Novecento non hanno più fatto le pale, probabilmente perché questi usi sembravano antichi, sorpassati, non si volevano perpetrare così nel tempo. Oggi invece sono tornate di moda, diversi accademici stanno facendo, hanno fatto l'Europale, anche Nicoletta Maraschio, la mia non c'è ancora, la stanno facendo perché me l'hanno, infatti i miei allievi, me la fanno per la fine della mia carriera accademica e invece di fare una pubblicazione che diventa un tormento, sai questi libri l'onore di che sono un incubo, ho detto fatemi la pala che puoi sfidare, così ci scriveranno omaggio degli allievi dono degli allievi, ma comunque qui non c'è la mia pala, no? Queste sono quelle antiche, insomma quelle museali, perché poi quelle moderne, sì sono belline, ma naturalmente la grande tradizione è questa delle pale antiche del Cinquecento, del Seicento. Questa è la sala della nostra biblioteca, naturalmente dentro la Villa Medicia c'è una biblioteca non enorme, è una biblioteca che ha 160.000 volumi, quindi non è un'enormità, però sono 160.000 volumi tutti relativi alla lingua e alla linguistica italiana e quindi da questo punto di vista è una biblioteca assolutamente completa. Tra l'altro questo può essere un addentro divertente, non è stata fotografata da Google, no è importante, non è stata fotografata da Google magari vi racconto ma se vi interessa mi farete una domanda come procede Google quando in Italia fa le fotografie dei libri, l'ha fatto alla Biblioteca Nazionale di Firenze anche per esempio e capite che quando un libro sta in Google beh naturalmente interessa un po' di meno perché chiunque se lo vede da qualunque parte del mondo. La Crusca non diede la disponibilità a Google per un incidente semplicemente perché c'era il passaggio tra la presidenza Maraschio e la mia quindi non rispondiamo subito e Google non è che aspetti tanto naturalmente ti ignora e va avanti però se mi rifacessero la domanda io non li farei fotografare non peraltro probabilmente quasi tutto quello che abbiamo sicuramente c'è già in Google però quello che non c'è vuol dire che l'utente che desidera vederlo viene a Firenze e viene in Crusca gli altri volentieri la portano però deve avere un rapporto materiale anche se naturalmente non è che io non apprezzi la biblioteca di Google trovo che è una delle cose più belle fatte dalla civiltà moderna una cosa straordinaria però anche se è così naturalmente bisogna anche conservare un terreno ancora nel rapporto reale con il libro noi lo conserviamo ecco come vi diceva prima il professor Haller l'Accademia della Crusca è diventata famosa nel mondo per un oggetto cioè il vocabolario potremmo dire che la Crusca ha inventato nell'epoca in cui gli italiani riuscivano ancora a essere i primi a inventare qualche cosa il vocabolario europeo moderno è questo qua il vocabolario del 1612 vocabolario degli accademici della Crusca tanto più straordinario se pensate che questo vocabolario della lingua italiana esce in una penisola in cui non esiste una unificazione politica in cui gli italiani sono divisi in tanti stati diversi ma sono in qualche modo si sentono riuniti da una lingua che non è la lingua della conversazione reale di tutti i giorni tranno che che è a Firenze in Toscana dove effettivamente lo è ma non negli altri posti ma è la lingua della loro tradizione letteraria perché gli italiani hanno avuto prima la tradizione letteraria e soltanto dopo hanno costruito anche grazie a questa tradizione una nazione politica se ecco i vocabolari il collega Haller collega accademico Haller ha citato benevolmente il mio libro L'ordine delle parole che è una storia dei vocabolari italiani quindi è evidente che io amo i vocabolari se non promettiamo fare il presidente della Crusca ma la storia dei vocabolari è in realtà affascinante tanto è vero che in certi casi è arrivato al cinema è arrivato al cinema questo film che in italiano il professore è il matto mi pare che è il titolo con cui è il pazzo esattamente il professor Andrew Merck vedete penso che l'abbiate visto anche qui in America non lo so se nessuno l'ha visto è un film il film dunque la storia è quella dell'Oxford Dictionary quindi certamente è una storia di un vocabolario della lingua inglese ma inglese più che americano non è il Webster è una storia affascinante cioè racconta questo film nessuno l'ha visto di voi eh? ah ho capito c'è un libro americano da cui non ho tratto un film che non ha circolato in America come mai non lei l'ha visto qui benissimo allora non vi sto raccontare naturalmente il film però vuole mostra attraverso la collaborazione tra questo professore che dirige il dizionario e questo matto che sta in galera ma che riscatta se stesso collaborando quest'opera lessicografica racconta in maniera un po' avventurosa un po' romanzata però anche fedele alla verità la creazione la sfida della creazione di questo vocabolario qui vedete i collaboratori del vocabolario con tutta una serie di schede perché siamo nell'ottocento quindi non è fatto col computer è fatto con le schede composte a mano come quelle schede della crusca che dicevo prima che stavano dentro agli armadi a forma di sacchi ecco io ho trovato affascinante che si sia fatto un film sui dizionari anche se sono rimasto un po' sorpreso perché vedete le date dell'Oxford Dictionary 1857 in tutta la storia che viene raccontata nel film non nel libro il libro non l'ho visto in pratica si fa come se questo fosse l'Oxford fosse il primo vocabolario non viene mai citata nessun'altra nazione tranne la Francia a un certo punto entrano in crisi e dicono ma a Parigi rideranno di noi quindi c'è l'Oxford e Parigi sono rimasto naturalmente un po' perplesso perché guardate le date dei vocabolari dell'Accademia della Crusca e certo il vocabolario della Crusca è il primo in Europa quindi la sua storia avventurosa potrebbe dare origine anche a un film se potrebbe veramente perché non vi sto a dire ma ci sono vicende di sangue di avventura nella storia dei dizionari non è una cosa così pacifica fare dei vocabolari non voglio entrare in questo argomento ma la dedica a Concino Concini Concino Concini a cui dedicano il vocabolario del 12 che è un ipotente a Parigi perché ha potere quasi come un re due anni dopo lo ammazzano il popolo di Parigi salta su lo ammazza insieme alla moglie quindi già dietro la storia del dedicatario perché gli accademici della Crusca quando fanno questo vocabolario non sono parte di un'accademia statale non è statale l'accademia della Crusca non era del Granduca di Toscana è un'associazione privata poi oggi è dello Stato cioè è passato del tempo però erano dei ricchi fiorentini solitamente banchieri mercanti che si erano finanziati da soli per realizzare questo vocabolario da dilettanti quindi non erano letterati di professione assolutamente e quindi cercavano però essendo banchieri non sciupano i soldi i banchieri quindi si erano tassati per fare vocabolario ma poi volevano anche venderlo e quindi cercavano i privilegi il privilegio era il diritto d'autore dell'epoca per avere il privilegio dovevi il capo di uno Stato doveva scrivere un privilegio cioè dire per dieci anni nessuno può stampare questo libro nessuno può rubarlo ora notate per esempio era importantissimo il privilegio della Francia perché la Francia era una nazione in quest'epoca in cui l'italiano era molto diffuso pensate a Maria dei medici pensate appunto ai medici che sono direttamente al potere in Francia anche il concino concini naturalmente lo fiorentino quello che citavo prima e quindi la Francia è una grande nazione se aveva il privilegio voleva dire che in Francia tu vendevi il libro e nessuno poteva copiarlo molto più difficile in Italia in Italia era un tormento perché ogni cento metri cambiava lo Stato quindi doveva avere il privilegio per il Gran Ducato di Toscana il privilegio per la Repubblica di Venezia il privilegio per Milano lo Stato di Milano il privilegio per il Ducato di Savoia e via dicendo quindi l'Italia era un mercato difficilissimo per i libri perché doveva avere i privilegi di tutti loro ci sono riusciti ad avere tutti i privilegi però normalmente era meglio avere il privilegio della Francia perché vendevi lì ed era un grande Stato funzionava meglio dal punto di vista commerciale comunque loro sono riusciti a fare un vocabolario che è avuto successo che è stato venduto ma non soltanto allora intanto come vedete è stato poi ristampato arricchito nel 1612 23 91 quindi addirittura tre edizioni nel 600 poi una quarta edizione nel 700 e poi una quinta edizione questa che si interrompe nel 1923 quando il governo Mussolini toglie alla Crusca il compito di fare vocabolario erano arrivati alla lettera O in questa quinta edizione alla parola ozono e alla parola ozono pam si devono fermare il vocabolario viene passato alla più grande accademia del fascismo che era l'Accademia d'Italia fondata dal fascismo a imitazione dell'Accademie francese quindi Accademie francese Accademia di Francia e Accademia d'Italia l'Accademia d'Italia parte perché Mussolini aveva dato ordine fate voi il vocabolario all'Accademia d'Italia in cinque anni in anni cinque aveva detto Mussolini si lanciano a fare vocabolario arrivano alla lettera C e la lettera C cade il fascismo e quindi quindi anche vedete quello della Crusca si è interrotto alla lettera O quello dell'Accademia d'Italia si è interrotto alla lettera C quindi anche la storia dei vocabolari interrotti è estremamente interessante capita che ci siano dei vocabolari che per qualche motivo hanno gli incidenti di percorso ecco il vocabolario della Crusca e anche la stessa Accademia della Crusca diventa un modello per tutti gli altri ecco perché l'Accademie francese vedete fondata nel 1635 e poi 1694 il vocabolario e quindi il modello è l'Accademia fiorentina l'Accademia spagnola ecco qua vedete le date anche qui le vedete non le stiamo nemmeno a commentarle qui vedete anche il simbolo l'emblema della Real Accademia Spagnola ora è interessante questo perché io non conosco bene gli Stati Uniti però non c'è negli Stati Uniti un'istituzione paragonabile a queste Accademie della lingua non esiste ora vedete che le vecchie nazioni d'Europa Francia Italia e Spagna tutte e tre hanno invece un'Accademia che è dedicata in modo specifico al controllo alla protezione alla promozione della propria lingua nazionale e anche Accademie che hanno una autorevolezza nello stabilire la norma cioè la lingua giusta la lingua sbagliata l'abbiamo visto anche dal motto della Crusca il più bel fiorne coglie cioè la pretesa dico pretesa perché naturalmente poi non sempre le cose vanno avanti in modo pacifico quindi non è detto che la pretesa corrisponde a un potere che si riesce a esercitare con facilità però specialmente in Italia perché fino al 1861 non esisteva uno stato unitario italiano mentre invece in Francia e in Spagna le Accademie che erano state fondate ad imitazione della Crusca erano emanazione di un potere statale quindi addirittura avevano più forza del modello dell'Accademia della Crusca che invece non poteva invocare la forza della politica rispetto allo stato di Milano lo stato del Piemontese di Savoia o il regno meridionale di Borbone era un'istituzione toscana fiorentina quindi entravano come sempre in Italia anche dei problemi di rapporto campanilistico tra le diverse parti d'Italia e l'Italia è un paese molto individualista e molto litigioso al suo interno ecco ancora rapidamente ho detto che voglio sollecitare se possibile a farvi venire voglia di fare una gita a Firenze se fate una gita a Firenze e andate nel quartiere in cui c'è l'Accademia della Crusca avete visto prima la facciata vi ho detto anche la zona è quella al confine con Sesto Fiorentino quindi ai margini del comune di Firenze troverete anche delle cose importanti vicinissime all'Accademia della Crusca per esempio troverete questa villa la Petraia che è un'altra villa medicea tra l'altro le ville medicea sono state dichiarate tutte patrimonio dell'umanità dell'UNESCO non che serva molto perché sono tanti fin troppo le cose che sono dichiarate patrimonio dell'UNESCO né io sono mai riuscito a tirare su il becco di un quattrino grazie al fatto che il palazzo che avete visto prima e che è affidato alla custodia per la manutenzione ordinaria straordinaria e costa parecchio la manutenzione straordinaria di una villa medicea ecco tutte queste ville medicea sono patrimonio dell'UNESCO vi dicevo e questa che è a poca distanza sarà a meno di un chilometro dalla Crusca un po' più in alto sulla collina e fu la sede tra l'altro di Vittorio Emanuele II primo re d'Italia quando la capitale fu spostata da Torino a Firenze dopo l'unità cioè sono i piemontesi che fabbricano l'unità d'Italia che la realizzano il primo re è un Savoia che diventa primo re d'Italia e la capitale viene spostata non a Roma perché Roma era ancora sotto il dominio dei papi ma viene spostata a Firenze nel 1864-65 e il re va a abitare qui quindi a poca distanza dall'Accademia della Crusca e anche l'Accademia della Crusca era parte delle ville reali cioè abitava la corte non il re perché il re aveva scelto la Petraia e nella zona tra l'altro trovate un sacco di cose interessanti ancora più vicino di quanto sia la Petraia c'è questa casa dove è stato scritto Pinocchio Pinocchio è nato lì vedete questa e perché è nato lì perché questa era la villa del Lorenzini il fratello dell'autore di Pinocchio che era direttore della manifattura Ginori che aveva gli stabilimenti poco lontani e come direttore della manifattura Ginori si era fatto una villa non lontana dallo stabilimento in cui ospitava il fratello che era giornalista e scrittore l'autore di Pinocchio questa è la targa che ricorda purtroppo non si visita questa villa è privata ancora oggi però almeno si può osservarla da lontano e pensare che Pinocchio è nato lì e nel quartiere dove c'è l'Accademia della Crusca ci sono molti cartelli che ti dicono dove era la scuola di Pinocchio la bottega di Geppetto quindi è ambientata nel quartiere di e tra l'altro a pochissima distanza dall'Accademia della Crusca ci sono tombe etrusche che nemmeno i fiorentini probabilmente conoscono un granché questa addirittura questa in cui vedete poi ho organizzato una visita in questa tomba etrusca con il direttivo dell'Accademia della Crusca c'è un giorno che si è riunito il direttivo e poi ho ottenuto una visita speciale perché questa è una situazione tipicamente italiana cioè pensate questa tomba etrusca che è il più grande edificio ipogeo d'Italia cioè il più grande edificio sotterraneo si chiama tomba della mula è già nel comune di Sesto Fiorentino ma la cosa interessante è che sta dentro un grande parco di una villa privata una villa del Cinquecento non bella come l'Accademia della Crusca ma insomma una villa del Cinquecento oggi trasformata in condominio cioè ci sono tanti alloggi tanti saranno tre o quattro sotto la villa nelle cantine c'è la tomba etrusca che fin del Cinquecento è stata usata come cantina cioè ci tenevano il vino mi viene da ridere perché io vengo da Torino che è una città moderna in Italia non è una città antica come Firenze quindi noi nelle cantine di solito abbiamo come immagino anche voi i garage per le automobili invece in Italia nelle cantine ci sono le tombe etrusche può capitare questo come bene condominiale lo dico come una battuta non è un bene condominiale nel senso che sapete che tutti i beni archeologici sottoterra sono dello Stato in realtà è difficile visitarla però per avervi permesso questa è un'altra tomba etrusca a poca distanza quindi addirittura due tombe etrusche tra l'altro siccome i turisti lo dico anche a fin di bene che ci sono queste cose perché i turisti a Firenze si concentrano tutti in due o tre posti e allora invece questi qui sono posti tranquillissimi che non si fa la coda no? Ma bene che a New York la coda è un'istituzione importante però se per caso uno vuole venire in Italia non fare la coda può venire nel quartiere di Castello e vedere alcune di queste cose allora l'Accademia della Crusca è un'istituzione antica abbiamo visto nel 1583 oggi è diventata statale cioè non soltanto da oggi è dell'unità d'Italia che è diventata statale quindi dal tempo di Vittorio Emanuele II che dicevamo prima e gode di un prestigio analogo a quello delle consorelle di Francia e di Spagna e le fotografie che ho messo qua dimostrano che è così nel senso che vedete che ci sono delle persone celebri che sono venute in visita all'Accademia quindi alcune più celebri alcune meno celebri non so adesso se riconoscete questo perché è venuto in America di recente anche a parlare con Trump e questa forse non la conoscete Laura Boldrini la conoscete ecco e questo lo conoscete di sicuro perché era qui la settimana scorsa credo sì qui gli USA e invece questa la riconoscete la regina d'Olanda che è venuta l'ex regina d'Olanda quella che ha abdicato che è venuta in visita privata per la verità privata per una fotografia me l'ha concessa insomma quindi indubbiamente la Crusca gode di questo status internazionale e naturalmente mantiene i rapporti con le istituzioni con sorelle per esempio il 28 settembre 2018 in occasione della giornata europea delle lingue la rappresentanza italiana della commissione europea ha riunito a Firenze all'Accademia della Crusca le tre Accademie sorelle quindi questa che vedete qui questa qui Madame Dancos e la secretaire perpetuelle però lei ci tiene molto essere chiamata al maschile mi dispiace quindi lei pretende le secretaire perpetuelle dell'Accademie Française e tra l'altro loro non hanno un presidente eletto periodicamente come me ma hanno un secretaire perpetuelle però non è in realtà perpetuo però insomma un tempo un tempo sì mi ha spiegato che poi non è proprio perpetuo ma dura più di quanto dura il mio mandato ecco questa invece è la rappresentante italiana della commissione europea a Roma ecco è stata una giornata molto interessante c'erano anche gli spagnoli che non si vedono in fotografia e perché le tre Accademie si sono incontrate attorno a temi che sono di qualche interesse cioè la mattina abbiamo discusso dei temi linguistici all'ordine del giorno nei nostri tre paesi Francia Spagna Italia e al pomeriggio si è discusso delle linee di politica linguistica delle nostre tre Accademie quindi è stato un incontro molto interessante quindi è chiaro che questo rapporto c'è ecco e dunque qui il filmato non partiva vero? dovremmo partire allora questo filmato non è per menar vanto però rappresenta effettivamente l'episodio mondano più importante a cui mi è capitato di partecipare come Presidente della Crusca anche più promette delle visite che ci sono state del Presidente della Repubblica perché questa è una seduta speciale della Real Accademia Spagnola per festeggiare i 300 anni del loro vocabolario quindi hanno invitato a Madrid me e anche la Secretaire Perpetuelle dell'Academie Française e le cerimonie della Real Accademie Spagnola sono presedute dal re addirittura adesso vediamo se parte il filmato ecco vedete vedete il re e la regina che stanno entrando poi questo ingresso ha creato una polemica in Spagna poi ve lo racconto se volete ecco vanno a sedersi e li vedete in quell'angolo qua questa è Madame D'Ancors e questo sono io no perché voglio dire ci avevano messo più vicino al re che alcuni politici spagnoli per esempio Zapatero era cinque fili indietro addirittura questo perché perché loro riconoscono questo importante il primato storico della nostra Accademia anche più dei francesi i francesi lo riconoscono ma naturalmente sapete che hanno sempre qualche remora qualche resistenza a cedere un primato a qualcun altro i francesi ecco adesso si vede il re che apre la seduta non ce l'audio vedo peccato perché il re ha una bellissima voce da re ecco vedete lui dice di chiaro aperta ecco qua e poi questo è Bequa che era l'allora presidente dell'Aerale dell'Academia Spagnola che con un po' di impaccio di studioso emozionato da questo momento vedete che si ha bottonato la giacca e consegna ora questo dizionario della lingua il dizionario dei 300 anni che hanno rifatto lo consegna al re anzi vedrete il bel gesto perché viene consegnato alla regina che lo passa al re c'è tutto un momento ecco qua vedete grazie a tutti poi i vari direttori del dizionario eccetera qui ho messo questa cosa qua perché di nuovo c'è il passaggio del sottoscritto quindi non poteva questo è il direttore del vocabolario vedete cosa adesso cioè con che pompa diciamo con che cerimoniale anche viene presentato un vocabolario che per loro per gli spagnoli è molto importante tra l'altro perché gli spagnoli a differenza degli italiani possono puntare sul panispanismo cioè su una lingua che sta in Spagna ma sta anche al di là dell'oceano e dentro questo vocabolario infatti hanno messo anche le parole dell'America Latina ma anche degli Stati Uniti era sufficiente che una parola esistesse in due paesi oltreoceano anche non contigui anche distanti per essere inserita lì dentro quindi in questo vocabolario ci sono parole che gli spagnoli magari non tante ma c'è una serie di parole che gli spagnoli non conoscono e non usano però nel vocabolario sono registrati perché sapete bene come la Spagna persino nel numero dei parlanti nativi cerca di fare la concorrenza all'inglese l'Istituto Cervantes sostiene che i parlanti nativi italofoni ora sono più dei parlanti nativi anglofoni sono oltre 500 milioni non so se sia vero o no sono numeri che ovviamente sono distanti dall'esperienza del presidente dell'Accademia Italiana che non ha una sponda oltreoceano o meglio ce l'ha per gli emigranti ma non ha diciamo quel passato coloniale che pure in piccolo è esistito per l'Italia anche l'Italia ha avuto un piccolo passato coloniale però si è perso rapidamente per cui pensate la presenza dell'italiano in Libia in Somalia in Etiopia varie ragioni storiche le hanno cancellato anche laddove si era cercato di mantenere un rapporto nel caso per esempio della Somalia per molti anni i professori italiani andavano a fare lezioni in Somalia però è venuta la guerra i signori della guerra tutto insomma si è perso quindi l'Italia è un paese senza impero l'italiano non trae forza dalla potenza politica e deve trarre la sua forza dalla cultura dalla tradizione letteraria e dalla tradizione culturale e deve un po' anche guardare al passato il passato è un po' la nostra forza e se lo si abbandona certo qualche cosa si perde qui c'è un collegamento in rete è vero quindi questo che vedete qui comunque non riesco a vedere non riesco a far fuori ah eccolo qua vabbè che cosa fa l'Accademia della Crusca per vedere che cosa fa è sufficiente andare nel sito perché la Crusca pur se un'Accademia antica ha giocato molte delle sue carte attraverso l'uso del sito e dell'informatica per esempio prima quando vedevate l'elenco dei dizionari dal 1612 dalla prima Crusca fino all'ultima quella era una pagina del sito in cui questi dizionari sono consultabili per via elettronica cioè sono stati trasformati in dizionari elettronici che sono in libera consultazione nel sito quindi nel sito trovate qui negli scaffali digitali una serie di strumenti che sono prevalentemente di uso un po' specialistico poi se ne può parlare tra le acquisizioni più recenti e più ambite so che ci sono dei dottorandi in sala no? e sicuramente il fatto che si possa consultare qui il D il 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 GDLI il grande dizionario della lingua italiana quello che chiamiamo comunemente il battaglia non è una cosa da poco il battaglia lo dico per i dottorandi sapete che è un dizionario di 21 volumi non so quanti chili pesi ma non è così facilmente trasportabile l'altra sera a cena con il professor Haller lo consultavamo dal telefonino perché è anche una versione adattiva ecco e in più altre risorse importanti cioè diciamo qui c'è una serie di risorse per studiosi per specialisti così come invece qui c'è tutta la parte della consulenza linguistica la consulenza linguistica è il settore a cui il pubblico qualunque tipo di pubblico scrive per porre delle domande relative alla norma al miglior uso dell'italiano l'Accademia della Crusca a differenza della Real Academia Spagnola e dell'Academie Francaise non ha un potere ufficiale che sia stato assegnato dallo Stato quindi non detta leggi sulla lingua questo è un problema dei colleghi spagnoli e francesi di dettare le leggi noi in realtà siamo meno potenti ma anche più liberi nel senso che la Crusca dà dei consigli svolge delle tesi ha delle opinioni qualche volta sostiene delle polemiche ma non può imporre nulla in maniera autoritaria e quindi semmai apre una discussione col mondo esterno e naturalmente è una grande autorevolezza anche perché molti italiani non sanno che la Crusca non ha questo potere quindi glielo attribuiscono e un potere attribuito anche se non esiste è pur sempre un potere addirittura è persino più comodo perché ricordo per esempio Madame Dancos la segretaria perpetuaire che si diceva prima le discussioni perché quando venne a Madrid proprio nel periodo in cui è stato fatto quel filmato che avete visto era esplosa in Francia una questione relativa al linguaggio di genere perché un deputato di Madame Le Pen si era rivolto al presidente di turno del Parlamento che era socialista in quel momento una presidente di turno e l'aveva chiamata Madame quindi non Monsieur Madame le Presidente quindi Madame femminile le Presidente maschile e la Presidente aveva dato 1500 euro di multa al deputato creando un putiferio perché in Francia c'è una legge che permette di fare questo in Italia no tanto è vero che Laura Boldrini veniva sempre chiamata signor Presidente si arrabbiava moltissimo ma non poteva dare 1500 euro di multa a nessuno quindi in Italia era insomma uno scontro più pacifico di opinioni senza conseguenze venali ecco e Madame me diceva ma voi avete questo problema allora si discuteva delle diverse reazioni perché era stata chiamata l'Accademia a quel punto in causa dicendo chi ha ragione si può dire Madame le Presidente oppure non si può dire e l'Accademia aveva preso una posizione conservatrice tra l'altro perché l'Accadémie Française è molto rigida molto affezionata alla tradizione quindi in realtà si era messa dalla parte di chi voleva limitare l'uso del linguaggio di genere eccetera eccetera ma non entriamo in questo tema semplicemente si vede come la discussione sulla lingua in molti casi non è soltanto pura astrazione di norma ma crea delle polemiche a parte che fa scorrere il sangue anche la norma perché per esempio c'è un giornale italiano che si fa qui a New York La Voce di New York vero? c'è qui il giornalista della voce? no non c'è capisco perché non c'è cioè me ne rendo conto perché c'è stata una furiosa polemica tra la Crusca e quel giornalista sulla questione di qual è con l'apostrofo c'è stata una furiosa perché eh si può recentarlo in breve perché ogni tanto non è l'unico incidente voglio dire gli incidenti di percorso gli scontri dell'Accademia della Crusca sono un'infinità praticamente volente o nolente ogni 15 giorni c'è un incidente che va dai problemi del linguaggio di genere ai problemi delle minoranze linguistiche alla cancellazione della toponomastica italiana in alto adige intanto per dire degli esempi alle pretese di chi vuole trasformare i dialetti in lingue e se dici la parola dialetto ti dà un pugno sulla faccia ecco no? quindi c'è una quantità di cose incredibili e è uscito anche il caso di qual è perché io non so come voi ammiate scrivere qual è lo scrivete vi avranno insegnato a scuola che non si deve mettere quest'apostrofo ecco però le ragioni per cui se non voglio entrare nei dettagli alcuni italiani lo scrivono anche famosi anche Saviano l'ha scritto con l'apostrofo prima si è scusato anche lei lo scrive con l'apostrofo è come la voce di New York allora cos'è successo? che la crusca ha risposto dicendo che si capiva benissimo qual era la ragione che se mai poi ci veniamo dopo se vi interessa ma insomma non entro nei dettagli per cui avevano usato questo apostrofo ma che tutto sommato la soluzione tradizionale senza apostrofo restava agli occhi della crusca quella preferita allora lì la polemica era contro un linguista italiano di cui non farò il nome e questo linguista italiano è stato appoggiato in parte addirittura dalla Treccani che ci fa un po' la concorrenza e poi la voce di New York ha sposato in grande la sua causa attribuendo alla crusca una cosa che non aveva fatto cioè l'autorizzazione a scrivere così il linguista italiano è stato molto corretto perché ha scritto una lettera dismentita alla voce di New York quindi addirittura si è mosso prima della crusca però a quel punto io mi sono un po' seccato di questa storia per cui gli italiani non capivano dove volesse andare a parare la crusca all'apostrofo senza per cui ho dato ordine sotto la mia responsabilità che nel sito della crusca l'articolo di quel linguista che aveva usato l'apostrofo con una nota cioè avevo usato l'apostrofo noi avevamo messo una nota sotto dicendo la crusca non è favorevole a questa soluzione grafica ma visto che l'autore ci tiene tanto glielo facciamo passare sotto la sua responsabilità la voce di New York ha detto la crusca ha sdoganato ha sdoganato non avevamo sdoganato niente allora ha dato ordine che si cancellasse l'apostrofo e la nota fosse rovesciata al contrario cioè l'autore avrebbe voluto mettere questa apostrofo ma noi gliel'abbiamo tolto ecco il risultato è stato che l'autore ha ritirato l'articolo è pazienza no? è pazienza noi abbiamo un organo di controllo della qualità delle riviste che si chiama Anvur in Italia che tra le domande che ti fate dice quanti articoli avete respinto è uno di più è un titolo di merito no? quindi addirittura abbiamo tirato abbiamo guadagnato un titolo di merito ecco quindi questo è per dirvi cosa si nasconde magari dietro a un apostrofo non dietro a un problema di grafia che poi sono i problemi più più insignificanti più secondari che esistono bene forse a questo punto posso anche fermarmi qui nel senso che posso avere sollecitato le domande del pubblico no? con questi accenni grazie al problema della norma che non è l'unico problema della lingua italiana ma certamente i problemi della norma esistono in tutte in tutte le lingue in particolare nelle lingue che hanno una storia come l'italiano cioè una lingua che come sapete è arrivata molto lentamente ai suoi cittadini cioè per secoli l'italiano è stato uno strumento di classi elevate che praticavano la cultura e la letteratura e il popolo usava degli altri codici linguistici quindi qui entra in campo naturalmente la grande varietà della situazione linguistica italiana a cui la crusca è affezionata questo è il punto no? perché tra l'altro ecco ancora questo si può dire esistono due istituzioni che si occupano di lingua in Italia in realtà e una forse vi è più nota ancora della crusca cioè la Dante Alighieri io dico sempre che noi siamo il ministero dell'interno e la Dante Alighieri è il ministero degli esteri poi in realtà a volte ci scambiamo i compiti perché anche noi andiamo all'estero infatti è stesso che siamo qui grazie al ministero degli esteri che ci favorisce molto però naturalmente istituzionalmente la Dante Alighieri ha proprio il compito di essere presente in tutti i paesi del mondo per fare conoscere l'italiano per organizzare corsi di italiano per promuovere l'italiano e quindi esistono queste due istituzioni con funzione diversa però un po' di attenzione a ciò che è fuori dai confini italiani anche noi ce l'abbiamo il fatto stesso è che esistano gli accademici corrispondenti stranieri e esteri non stranieri esteri la dicitura ufficiale che dicevo prima quindi sono un poco i nostri ambasciatori nei paesi del mondo in cui li abbiamo perché non ci sono in tutti i paesi del mondo ma in molti paesi sì allora ringraziamo moltissimo il professor Marazzini d'accordo dunque ringraziamo moltissimo il professor Marazzini per il suo intervento molto affascinante insomma sulla storia della Crusca anche dal punto di vista del castello e ciardino e così via e poi anche per averci fatto vedere entrare nel vivo del lavoro insomma della Crusca i problemi quotidiani che deve affrontare il presidente ricordo per esempio la parola pettaloso c'è stato tutto uno scandalo c'è tutta una una discussione internazionale su quella parola no ecco ed è ed è molto bello vedere appunto come l'Italia è un cioè la lingua italiana l'italiano è una lingua senza impero cioè nella sua storia no senza esercito senza colonizzazione a parte alcuni episodi e quindi una lingua anche nel ruolo dell'accademia cioè non ha un ruolo dirigistico l'Italia appunto non ha una storia dirigistica della lingua come la Francia per esempio come la Spagna mi sembra una cosa molto positiva ecco forse per iniziare il dibattito la discussione i commenti possiamo anche far riferimento al libro cioè a questo nuovo libro che hai scritto e cioè come si come si può tenere l'italiano al guinzaglio verso la conclusione appunto dice l'italiano bisogna ecco tenerlo al guinzaglio avere una specie di cioè grande libertà grande tolleranza negli usi cioè anche nei confronti della variazione ma come è possibile ecco per la crusca tenerlo al guinzaglio chissà se ai presidenti precedenti sarebbe piaciuta questa espressione del guinzaglio magari guinzaglio voleva semplicemente dire una modifica in qualche modo controllata ecco dell'italiano perché anche venendo qui la signora prima lamentava parlavamo dell'eccesso per esempio di prestiti forestieri all'interno della lingua ecco per esempio questo è uno dei settori in cui la crusca è intervenuta e lì un po' di guinzaglio può servire ma non tanto per combattere tutti i prestiti perché combattere i prestiti che entrano in una lingua sarebbe una battaglia contro dei mulini a vento insomma naturalmente però la crusca per esempio è intervenuta in più casi quando le parole forestiere e non tanto note parole come caregiver per esempio come whistleblower per esempio venivano introdotte nelle leggi italiane ecco perché almeno nella normativa legislativa bisognerebbe evitare di introdurre parole che non sono conosciute è stato esemplare il caso di stepchild adoption in Italia quando hanno fatto una legge sulla stepchild adoption tra l'altro in quel caso gli italiani con stepchild non sapevano nemmeno quello che stavano dicendo perché sì perché stepchild è il figliastro no? ecco pensate che in Italia una legge ha abolito la parola figliastro non esiste più perché nella parità assoluta tra i figli quindi il figlio il legittimo il legittimo sono esattamente pari sono tutti i figli dopodiché quando discutevano la legge della stepchild adoption hanno preso dall'estero una parola che è quella che loro hanno abolita senza accorgersi nemmeno che era abolita stavano per ficcarla in una legge oppure c'è un altro caso notevole fu quando hotspot fu introdotto ufficialmente nella terminologia italiana per indicare i centri di identificazione dei migranti io pensai in quel caso che fosse una battaglia facilissima perché hotspot c'è già in italiano per indicare delle altre cose cioè il posto in cui ti colleghi a internet quindi ha un aspetto ludico da allora pornografico e allora pensavo bastare a dire che è politicamente scorretto e non è servito niente il ministro Alfano ha continuato a chiamarli hotspot nonostante il richiamo della crusca purtroppo quello è fallito clamorosamente in altri casi le cose sono andate meglio per esempio la voluntary disclosure qui ce l'abbiamo fatta cos'era questa voluntary disclosure era gli italiani che avevano portato i soldi in Svizzera o all'estero che dovevano da soli autodenunciarsi per riportarli in Italia e naturalmente è chiaro che in un caso simile se tu dici no l'englismo che funziona è chiaro di occultamento di qualcosa perché se tu la chiami autodenuncia scappano via tutti allora noi l'avamo chiamata e dove cambiano collaborazione volontaria che è onesto e ce l'abbiamo fatta perché l'agenzia delle entrate ha adottato collaborazione volontaria di qualche volta funziona qualche volta non funziona ma naturalmente poi c'è il problema del largo uso di forestierismi nella lingua comune che in italiano sapete attecchiscono meglio che altrove pensate al wifi gli spagnoli i francesi mica lo chiamano wifi certo che non gli hanno dato un altro nome perché non si può un altro nome difficile da dare ma lo chiamano wifi notiamolo wifi in francia è normalissimo mi ricordo ho visto in un albergo di torino un francese che entrava e dice è proprio wifi e l'altro quello guardava allora gli italiani in genere sono molto disposti più di altri ad accogliere termini forestieri cosa che può essere segno di crescita intellettuale qualche volta invece di decrescita intellettuale quando si sostituiscono delle parole italiane che esistono addirittura con un solo franterismo ne ammazzite o quattro il caso che faccio sempre è quello della location perché un italiano quando scrive la recensione su TripAdvisor sono tanti che si diedono questo sport non possono fare a meno di dire che c'è una bella location e ammazzano posto luogo sito località tutto ammazzano tutto ma delle volte addirittura questo è curioso ci sono delle recensioni dei TripAdvisor in cui ti dicono la location era bellissima perché aveva le tovaglie a quadretti non è perfettamente coerente con il significato inglese di location intendono atmosfera intendono credo una cosa di questo genere cioè le tovaglie a quadretti fanno osteria di campagna eccetera eccetera quindi è una location in senso molto vabbè poi se andiamo nel campo dell'industria è un altro discorso cioè ne parlavamo prima lasciamo perdere gli industriali comunque è evidente che è una battaglia che non va portata oltre un certo limite cioè giusto nelle leggi no anche perché delle volte l'anglismo è una truffa vera per esempio ricordo quando hanno introdotto in Europa il bail-in il bail-in delle banche voleva dire ecco nessuno capiva cosa fosse questo bail-in invece è una cosa rischiosa cioè significa salvataggio interno delle banche cioè vuole dire che se la banca fallisce tu hai un conto ne paghi le spese non c'è salvataggio esterno dello Stato e mi ricordo che quando mi arrivò il foglio della banca che spiegava il bail-in c'erano come si usa adesso 40 pagine scritte piccole 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 che nessuno poi legge quindi uno dice vabbè firma e va bene e l'unica cosa che era sieta grossa era il bail-in c'era questa parola bail-in che non è una parola italiana ovviamente che era ancora un po' sconosciuta agli italiani quindi ci sono casi in cui bisogna diffidare del forestilismo degli altri in cui invece combattere contro il forestilismo contro l'anglismo diventa naturalmente un segno di eccessiva chiusura verso il mondo perché bisogna anche rendersi conto che ci sono delle nazioni che inventano più cose che vanno più avanti e delle altre invece che ricevono allora cominciamo con le domande sì intanto voglio ringraziare il direttore della ah sì dell'accademia della crusca molto interessante la mia domanda però è molto breve cioè l'accademia si interessa certamente è chiaro del lessico che usano i suoi cittadini diciamo mi interessa solo sapere adesso se presta attenzione anche all'uso della punteggiatura perché quella ha qualcosa di soggettivo è un po' sì se mi risponde mi fa veramente un accortezione sì ha qualcosa di soggettivo fino a un certo punto nel senso che per esempio la collocazione di una virgola tra il soggetto del verbo continua a essere una cosa scarsamente raccomandabile quindi certamente ci occupiamo di punteggiatura da due punti di vista cioè sia da un punto di vista normativo quindi consigli da dare e anche da un punto di vista storico cioè vedere che cosa succede per esempio ci sono un segno in particolare che è entrato in crisi sembrava addirittura morire il punto e virgola perché il punto e virgola sembrava morire perché ovviamente per sua natura è una pausa minore più breve meno forte di un punto fermo ma più forte di una virgola e naturalmente quando si va nelle gradazioni intermedie in una società di massa si va nel difficile perché la gente preferisce le soluzioni più immediate anche il linguaggio dei giornali che abusa di punti cioè quella sintassi pure molto moderna di ilvo diamanti per dire cioè quei giornalisti che mettono ogni tre parole un punto fermo e cominciano col che ecco dopo aver messo il punto fermo è tipico di una tendenza dell'italiano di oggi ecco però per esempio il punto e virgola che sembrerebbe morire io penso che possa rinascere perché ho scoperto questo non so se un'esperienza anche di altri ormai io stesso non ho più devo scrivere una tale quantità di cose che sono costretto a dettare su strumenti tecnologici cioè al tablet anche quel libro che avevo in mano quello lì è stato ma l'80% è dettato tanto è vero che quella di Basilea come si chiama la collega la Ferrari quando ha scoperto questo mi ha detto che meraviglia allora adesso lo studiamo perché vogliamo vedere come viene uno scritto che esce dalla dettatura nel rapporto oralità scrittura insomma allora nel dettaglio il libro poi naturalmente uno se lo rivede quindi mette a posto la punteggiatura ma quando si tratta di una lettera di un'email quindi di uno scambio veloce non c'è molto tempo per la revisione allora vi sarete accorti se anche voi usate strumenti di dettatura automatica con scrittura che nella punteggiatura i sistemi sono ancora fallaci nel senso che dovete essere dovete pronunciarlo nel modo giusto quindi tu dici buongiorno signore punto se lo dici subito mette il punto Google quando ti interpreta la tua voce ma se hai un attimo di esitazione lui scrive punto e se scrive punto lo devi cancellare per forza quindi perdi tutto il tempo che hai guadagnato con la scrittura automatica dopo lo perdi a cancellare le stupidaggini della scrittura automatica allora io non detto più la punteggiatura e naturalmente quindi la metto dopo metto i punti metto i punti fermi già ma se metti i punti fermi dopo sei costretto a mettere la maiuscola dopo il punto fermo perdi del tempo allora ho detto sai che faccio tanti bei punti e virgola anche un po' arrischiati che hanno quasi la funzione di punto quindi mi sono chiesto se questa esperienza mia io per esempio sto usando una quantità di punti e virgola nelle lettere negli scambi privati e non so se è un'esperienza anche di altri ma dato che credo che tutti saremo costretti a usare la scrittura automatica perché non c'è più tempo purtroppo uno dei problemi che abbiamo è la velocità la richiesta di tempo quindi può darsi che il punto e virgola abbia un grande futuro tecnologico allora buonasera e grazie mille per questa per questa fantastica diciamo delucidazione io volevo chiedere una cosa riguardo alle giovani generazioni cioè come fa oggi un giovane appena laureato a poter entrare in Crusca o in Dante Alighieri per continuare ci sono continuare a studiare o a fare una borsa di dottorato ci sono dei bandi perché qui non lo vedo io dal sito dunque la Crusca credo che l'academia la real accademia spagnola mi hanno detto ma magari non so se è vero ha qualcosa come 300 dipendenti no l'academia francese non so io ho sei dipendenti no quindi e tre che si aggiungono grazie alla finanziaria del 2019 governo Conte 1 quindi arriveranno 3 più 1 arriveranno 9 e 10 insomma in compenso ho una trentina di precari che sono i giovani che dice lei che vanno distinti dagli accademici intanto naturalmente no perché gli accademici come in tutte le accademie del mondo si entra col meccanismo detto di cooptazione cioè sono gli accademici che scelgono in maniera senza che si faccia una domanda quindi per propria iniziativa scelgono i futuri accademici quindi questo si entra in accademia quando si è un po' stagionati non ci entrano quasi mai i giovincelli no e poi tra l'altro non è un lavoro perché l'academia non dà uno stipendio non è pagato quindi sarebbe un guaio addirittura per un giovane entrare e certo noi diamo degli assegni di ricerca parecchi delle borse di studio entro certi limiti appunto come dicevo una trentina di persone l'anno possono usufruire di strumenti di questo genere e naturalmente il grosso dei giovani può trovare luoghi di studio nelle università più che nelle accademie e questo è una cosa naturale noi abbiamo rapporti di collaborazione intensi con le università nel senso che per esempio tutti i dottorandi di linguistica italiana della nostra disciplina una volta l'anno si radunano in Crusca e espongono le loro ricerche cioè la Crusca è un poco stando e a Firenze tra l'altro ha anche 14 stanze di foresteria quindi anche una possibilità di ospitare un piccolo numero di collaboratori ecco e quindi diventa come dire il punto di riferimento la casa a Firenze di chi si occupa di lingua italiana quindi certamente non tanto un rapporto duraturo che la Crusca non potrebbe sostenere economicamente però un punto di riferimento per le università per i colleghi che si occupano di filologia italiana di linguistica italiana di storia della lingua italiana di lessicografia italiana quindi questo è un po' il compito professore io vorrei sapere se oltre al finanziamento dello Stato la Crusca anche sono qua anche delle risorse proprie per esempio se fate attività commerciale sotto qualche forma o altro modo per incrementare i vostri fondi sì la facciamo e un po' di incremento riusciamo a ottenerlo cioè qual è l'attività che facciamo pubblicazioni quindi libri le visite le visite sì perché si paga una guida che di solito è uno dei nostri precari cioè per fare lo stipendio lottando contro la burocrazia perché non vi sto a dire ma insomma a volte le cose più semplici diventano complicate in questo momento il finanziamento statale della Crusca magari non si dovrebbe mai dire perché gli italiani devono lamentarsi sempre quindi adesso questo che sto dicendo potrebbe addirittura essere dannoso è sufficiente cioè abbiamo le risorse per fare il nostro lavoro bene senza buttare i soldi dalla finestra e facendo i conti col palazzo nel senso che sperando che non si rompa il tetto perché certo se ci sono dei danni straordinari nel palazzo è allora tutte le risorse dell'accademia invece che a sostenere la lingua vanno a sostenere la Villa Medicia purtroppo c'è questo rischio ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dovuto cercare risorse esterne questo sì nel 2014 l'anno della visita di Mattarella e della visita alla Real Accademia Spagnola io in realtà in casa lottavo contro il bilancio perché il bilancio dell'Accademia aveva già un finanziamento pubblico fissato dalla legge dello Stato fissato in un momento tragico per l'Italia la cosa è persino comica perché era la legge di stabilità del 2011 detta il Salva Italia Monti quindi Monti esecrato da tutti come quello che ha perseguitato gli italiani con tassazioni con tagli di tutti i tipi alla Crusca aveva dato di fatto una volta l'ho incontrato al Quirinale e ho detto adesso vado a ringraziarlo sono andato a Monti e ho detto io sono presidente della Crusca la devo ringraziare per quello che ha fatto si è quasi commosso perché non incontra mai nessuno che lo ringrazi per quello che ha fatto dove è ero il primo allora dicevano chiudevo la risposta quindi sono stati momenti difficili e allora abbiamo avuto un aiuto sostanzioso da dalle coppe fiorentine per esempio le coppe fiorentine un aiuto economico sostanzioso con un'esperienza interessante perché le coppe in cambio dell'aiuto hanno voluto che noi portassimo la Crusca nei supermercati quindi è stato un incontro tra un'istituzione aristocratica come la Crusca e il popolo toscano perché erano le coppe fiorentine e toscane in quel momento ed è stata una cosa importante perché avvicinarsi alla gente poi la gente di Toscana in fondo è fiera della propria lingua e quindi è stato uno di quei casi in cui lottare contro una crisi economica effettivamente ti crea delle opportunità impreviste a volte lo si dice per retorica che da un danno viene un bene ma qualche volta invece può capitare se posso aggiungere una domanda nel libro parli dei modelli che si devono seguire per la lingua per esempio c'è un passo c'è un capitolo in cui dice affermi che dunque il modello era letterario fino ad annunzio e dunque per chi voleva seguire appunto un modello di lingua italiana quali sono oggi diciamo le fonti di modelli di nuovi modelli per la lingua italiana che sostenete dalla Crusca e lì effettivamente era stato profeta Pasolini negli anni 60 quando aveva fatto quel famoso intervento in cui tutti gli studiosi gli avevano dato la croce addosso hanno detto che erano false profezie ma quando aveva detto è finito il modello umanistico che ha il suo modello a Firenze e a Roma è il modello dell'italiano ormai è nella pianura padana l'asse Milano-Torino ecco sicuramente è vero che c'è stato un emergere del modello settentrionale anche attraverso le televisioni private di Berlusconi quindi prima trasmetteva la RAI col modello romano quindi c'era semmai un eccesso di romanità rispetto al modello fiorentino però poi c'è stata questa forza della televisione privata che irradiava da Milano e quindi i modelli settentrionali si sono imposti nella scrittura certamente oggi è difficile che il modello sia uno scrittore per tante ragioni alcune delle quali stanno nel fatto che gli scrittori per reagire alla tradizione molto letteraria dell'italiano hanno fatto un grande sforzo per scrivere quasi sempre non dico tutti stiamo un po' generalizzando una lingua semplice colloquiale presa dal basso ora una lingua presa dal basso funziona bene oggi c'è un po' la retorica del basso lo vedete anche negli oratori un oratore anche italiano forse più italiano che americano prima cosa che fa si leva la giacca perché resta in camicia no? beh anche Renzi il sindaco di Firenze per il consiglio no? quando parla si leva la giacca cioè l'atto informale di dire sono come voi parlo come voi questa insistenza di colloquialità che diventa a volte un po' eccessiva perché naturalmente più scendi verso il basso più ti appiattisci perdi anche delle risorse per cui io ritengo che il modello letterario no letterario non va bene il modello di scrittura tutto sommato più praticabile sia quello o della saggistica di qualità o del giornalismo di qualità anche lo stesso Ilvo Diamanti su cui prima abbiamo riso voglio dire le firme importanti del giornalismo qualcosa segnano nella lingua poi naturalmente non è che non è obbligatorio imitare anche perché imitare significa sempre creare un sottoprodotto cioè una cosa è caposcuola una cosa sono gli imitatori però probabilmente molti giornalisti di qualità esprimono una lingua che in qualche modo a cui si può guardare con una certa fiducia è così nella saggistica ecco più fiducia nella saggistica che negli scrittori questo sì abbiamo abbiamo tempo ancora per una domanda o due sì professore lei ha parlato prima dell'ingresso di termini stranieri nelle nostre leggi questa è una situazione drammatica la qualità dell'italiano nelle nostre leggi è miserevole anche perché quasi tutte ormai provengono dalla fonte europea e quindi quando entrano nel nostro ordinamento si prende la traduzione italiana della legge europea e diventa legge nostra non c'è nessun controllo c'è una qualità possibile quando il codice civile del 42 fu emanato passò prima da persone che fanno il suo mestiere quindi fu riletto ed è un pezzo di lingua italiana straordinaria adesso è veramente una cosa orribile insomma credo che chi fa cura la sorte la salute della lingua italiana come voi dovrebbe fare qualcosa lei ha accennato al Beilin dice siete riusciti ho fatto una piccola ricerca delle leggi che hanno tradotto nelle lingue nazionali quella direttiva tre oltre la nostra hanno mantenuto il Beilin negli altri l'hanno tradotto tutti ma perché forse perché non ci sono giusti linguisti non saprei no dunque naturalmente la più attenta alle traduzioni è la Francia perché sappiamo che ha questa attenzione alla lingua prevista anche dalla sua legislazione e gli italiani come ho detto sono i più disposti e nell'ambito delle leggi e dell'amministrazione della giustizia ecco quindi mettiamo sistema giudiziario e leggi insieme in realtà c'è sensibilità perché tra le attività della Crusca di cui non ho parlato c'è la collaborazione con i ministeri e anche con l'ordine giudiziario il caso vuole per esempio che la scuola superiore della magistratura italiana sia a Firenze e a Scandicci non lontano della Crusca bene noi abbiamo una collaborazione intensissima con i magistrati della scuola di Firenze che vengono da noi per discutere di chiarezza delle sentenze di correttezza della lingua delle sentenze e sono incontri molto utili e interessanti ci passano tutti i giovani magistrati che si chiamano MOT magistrato ordinario in tirocinio quindi è un settore in cui vengono assunti non tanti ma sono 300 giovani l'anno ma naturalmente tutti di altissima qualità perché è molto difficile il concorso della magistratura e questi vengono in Crusca incontrano anche me insomma e poi magistrati di una certa età che scelgono di occuparsi di lingua quindi non tutti i magistrati possono scegliere anche altre cose però qualche volta passano dalla Crusca abbiamo collaborato con i ministeri questo con parecchi ministeri diciamo una cosa buffa è stata la collaborazione col ministero dei trasporti Toninelli che adesso poveretto è andato a vita privata perché Toninelli volle che la Crusca rivedesse mi convocò il 2 di agosto a Roma perché voleva che rivedessimo la comunicazione del sito del ministero dei trasporti poi pochi giorni dopo è caduto il ponte e quindi la cosa è andata un po' beh mi ha portato male diciamo e prima avevamo fatto la revisione di tutte le comunicazioni che si sentono dall'alto parlante delle ferrovie italiane quindi anche questa l'abbiamo fatta per esempio abbiamo fatto sparire la parola controlleria che si sentiva ancora negli italiani regionali cioè dicevano attenzione stanno per cominciare le operazioni di controlleria non è una parolaccia è badate c'è anche nel vocabolario anche nel Treccani è un termine tecnico delle ferrovie però gli utenti italiani lo trovano un po' scuro e quindi l'abbiamo sostituito con le operazioni di controllo dei biglietti che è più colloquiale più semplice la controlleria fa parte della tradizione di un linguaggio delle ferrovie di antica data quindi in realtà c'è una collaborazione della Crusca ecco si diceva che cosa fa la Crusca e collabora con tutti i ministeri che sono disposti la RAI non ci ha mai chiesto niente ma la RAI è uno dei massimi canali di anglicizzazione della lingua perché i giornalisti della RAI credo che non vivano a Roma hanno la testa a New York ma è a Miami non so perché è anche giusto averla teniamoci però totale proprio non voglio dire se cade uno spillo a New York ne danno notizie immediatamente se muoiono 10.000 persone in Cina magari se ne dimenticano non voglio dire hanno una visione così lei prima parlava del periodo in cui le persone lombarde di quell'area hanno cominciato a influenzare un pochino il nostro linguaggio c'è un mal costume che impera continua ad imperare che è quello dell'uso improprio del piuttosto che che io ritengo veramente una cosa molto molto urtante per quanto mi riguarda molto imbarazzante e continua ad essere usato soprattutto dai giornalisti sia in video sia sulla carta stampata e io mi chiedo come mai un termine così usato in modo errato continua a essere tollerato? Dunque tollerato no non è tollerato io cerco di combatterlo il più possibile la fortuna di una forma palesemente inadatta alla lingua ha delle ragioni recondite che in realtà nemmeno gli specialisti riescono a cogliere piuttosto che l'abbiamo combattuto in vari modi per esempio addirittura dando una mezza benedizione a un cantautore che opera in Belgio quindi un cantautore italiano che sta all'estero che ha fatto una canzone sul piuttosto che poi aveva chiesto all'Accademia della Cruz che si poteva mettere il luogo dell'Accademia nel filmato della canzone e io questo gliel'ho rifiutato mi sembrava troppo gli ho detto che però poteva mettere la facciata della villa non l'ha messa non so perché insomma piuttosto che è un tipico snobismo cioè ci sono le innovazioni sono di due tipi quelle che partono dal basso quindi diciamo da una semplificazione popolare della lingua questo può essere il caso di Gli quando io lo adopero per il maschile per il femminile per il plurale un Gli polivalente vuol dire a lei a lui e a loro questa è una semplificazione popolare allora il linguista può dire beh accidenti era meglio prima perché c'erano tre forme però si capisce che c'è una semplificazione razionale della lingua nel caso di piuttosto che non c'era semplificazione perché adesso ogni volta che senti il medico ti dice ma lei deve mangiare la minestra piuttosto che la carne e lei immediatamente deve dire questo sta parlando l'italiano di prima o l'italiano di poi perché ha una conseguenza se ci mettono tanti membri è più semplice cioè quelli che dicono ma non so se andare in montagna piuttosto che al mare piuttosto che in collina piuttosto che al lago allora sicuramente è la forma moderna non c'è rischio diciamo ma quando sono solo due il rischio c'è ed è evidente e come mai va avanti così perché è uno snobismo cioè l'innovazione è partita dal settentrione d'Italia è partita probabilmente da Milano anche se la crusca nel sito ha detto che è partita da Torino ma è falso non è mai partita da Torino io sono torinese non l'ho mai sentito usare quindi è partita da Milano e ha avuto fortuna perché si usa Roma si usa Firenze sta arrivando anche nel sud infatti lo dico sempre ai fiorentini dico ma perché dovete parlare nella lingua da Milano voi che siete così fieri della vostra fiorentinità come mai perché il parlante attribuisce probabilmente credo che sia soprattutto si senta in quelle conversazioni di salotto televisivo ecco probabilmente attribuisce prestigio il meccanismo del prestigio insomma come al solito lo attribuisce a volte a chi merita prestigio a volte a chi non merita prestigio però questo prestigio quando è sentito crea immediatamente imitazione e influenza l'utente ed è molto difficile contrastare bisognerebbe riuscire ad avere lo stesso prestigio ma non è così semplice arrivare a tutti allora ringraziamo di nuovo il professor Marazzini per le sue elezioni grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti